Vi parlo di Piggy, parliamo di Piggy dai, parliamo di Piggy E' interessante Piggy ragazzi, intanto uscirà il 20 luglio al cinema Secondo me un po' di gente la attirerà, perché? Perché Piggy parla di bullismo, di bullismo sull'obesità Piggy? Ehi Piggy, sorridi Aiuto! Ma si, ma si, ma si, dal trailer sembra una bomba Il film è abbastanza una bomba ragazzi, vi spoiler il fatto che mi è piaciuto Mi è piaciuto Mi è piaciuto Molto Molto, anche se non è un film perfetto, è un bel film Piggy Cerdita si dice, titolo originale Film thriller, ma è un film thriller horror assolutamente Su wiki dicono che è un thriller, ma in realtà è un thriller horror Del 2022, diretto da Carlota Pereda E dovrebbe essere un esordio questo Adesso mi apro anche la IMDB page Per vedere un attimo E' tratto da un cortometraggio della regista Che appunto si chiama anche quello Cerdita Del 2018 Ed è il suo primo film Il primo film di questa regista Regista sceneggiatrice Vediamolo un attimo Siamo nella campagna spagnola Non è specificato dove, ma secondo me non ha molta importanza Il film è spagnolo Ed è in Ed è in quattro terzi Qua si potrebbe aprire una discussione lunghissima Sul quattro terzi Però io vi dirò solo questo Poi dopo ne parleremo sicuramente centinaia di volte Perché è un bellissimo tema C'è stato un tempo in cui fare i film in quattro terzi Era l'unica opzione Poi è diventata una scelta artistica Che può infastidire qualcuno Sicuramente infastidisce chi non ritiene il cinema Una forma d'arte Ma un prodotto di divertimento e di intrattenimento e basta E quindi esattamente come vengono fatti i film in bianco e nero Anche se appunto esiste il colore da tanti anni È una scelta artistica Oggi la stanno usando sempre più persone Per svariate ragioni Per trasmettere Delle emozioni In un certo modo Per richiamare Volendo anche per richiamare un'epoca In cui Tutto può essere insomma Pensate a Eggers Pensate a altri registi Che l'hanno usato Alcuni l'hanno usato addirittura E durante il film Il film è passato da essere 4 terzi A diventare 16 noni Quindi è una scelta Questa è una cosa che mi interessa molto Parla di questa ragazza adolescente Quindi Minorenne Una ragazzina ancora Che però chiaramente Visto che è molto corpulenta Sembra anche un po' più grande Ma è una ragazza Comunque che vive con i genitori Piccola diciamo Ancora un'adolescente Molto obesa Piuttosto obesa direi Con i genitori che hanno una macelleria Lei lavora nella macelleria E viene bullizzata Dai compagni di paese Non sono suoi amici Sono gente del paese Che ragazze soprattutto Che la prendono in giro Ma ci sono anche dei ragazzi Che si vede nel trailer La rincorrono in macchina C'è tutto questo inizio Dove noi vediamo lei Essere presa di mira Che è veramente pesante Il film è girato molto bene Ed è scritto molto bene Perché Riesce veramente a farci Fare un giro Su una giostra di emozioni Che sono Sono veramente le più svariate Sono veramente le più svariate Perché Chiaramente tra queste Ci sarà la rabbia Ci sarà la rabbia Nei confronti di questi Di queste bulle Soprattutto queste donne Ma anche gli uomini Ci saranno delle scene Raccapriccianti Ma anche incredibili E questo ci farà star male Quindi si starà male Si farà presto A empatizzare con Sara La protagonista Si farà prestissimo È una ragazza molto bella In realtà In realtà è molto bella Effettivamente ha un Corpo Diciamo Cambiato Dalla quantità di Grasso in eccesso Però ha molto carisma Ha un bellissimo volto È molto brava A recitare E quindi chiaramente Si parteggerà subito Per lei Cosa succede? Si capisce nel trailer No? Quindi questo non è Non è tanto spoiler C'è un uomo Che rapisce queste ragazze E Sara lo vede Vede questa cosa E non fa nulla Non fa nulla E una delle cose Che nel film Cercheremo di capire E sarà una delle cose Che appunto il film Mette nel piatto Per renderci curiosi Per portarci avanti Sarà proprio Capire Se Sara Lo ha fatto Per vendetta Lo ha fatto Per paura Lo ha fatto Perché l'ho fatto E fin dove si spingerà Se si fermerà Solo a Diciamo Omet Non fare nulla In quell'occasione In cui vede appunto Rapite queste Queste sue Aguzzine O se si spingerà Oltre A vindicarsi Totalmente Eccetera eccetera Quindi il film Si basa su questo E E su un'altra cosa Che non vi posso dire Perché Spoilererebbe un pochino Il film E C'è molto altro C'è molto altro Sara vive in una famiglia Di merda Forse è leggermente Assolutamente niente Niente per lei Tra questi Anche la sua famiglia Ma nella sua famiglia C'è anche sua madre Che è veramente Un dito nel culo Incredibile Quindi Lei è un personaggio Che Sta per esplodere Però succedono Però succedono tante cose Intorno a lei Vedremo poi Come si comporta Vedrete se andrete A vederlo Come si comporterà Il film ha anche Una bella quantità Di sangue È bello Splatter Anche questo C'ha dei momenti Molto violenti C'ha È anche ironico Ci sono anche Dei momenti ironici Però Soprattutto È un film molto triste Per il discorso Del bullismo E Questo problema Che chiaramente Non è solo Un problema di obesità E basta Dietro Dietro l'obesità C'è anche un problema Di Di rapporto con il cibo Da parte di Sara Chiaramente Di dipendenza È un film girato Abbastanza bene Secondo me È girato bene È È recitato bene Non tutti gli attori Sono Diciamo In gamba Come i protagonisti Però i protagonisti Che sono quelli Che fanno di più Sono Sono Nel posto Sono stati scelti Nel modo giusto Ecco Poi ci sono Dei personaggi Un po' Macchiettistici Un po' Un po' Stereotipati Che Un po' Troppo di contorno Però il film È molto bello Soprattutto per la storia E la connessione emotiva Che si crea Con il personaggio di lei Molto difficile Parlare di questo film Senza spoilerare Si vedono un po' Di scene Violente Ma molto Montate molto velocemente Quindi non si capisce nulla La parte che si capisce In realtà È La prima parte Del film Quindi parlare Un po' Di quello che succede dopo È Troppo spoiler È un po' Imperfetto Però Nel complesso È veramente un buon film Perché la storia È fortissima È potente E ti coinvolge Cioè la trama Così come è scritta Come è portata Nel film Come è girata Ti coinvolge Fino alla fine Hai la curiosità Sempre di sapere Che cosa farà Lei Cosa faranno gli altri Che scelte farà E quindi Da quel punto di vista Funziona Chiaramente Non è un film Ritorico Sul bullismo Ecco Questo non Perché in realtà Il bullismo È solo Un pretesto Per Per approfondire Degli aspetti Psicologici Dell'essere umano In questo caso Chiaramente di Sara Soprattutto Per approfondire Proprio come si sente Lei Quindi non è la retorica Del Vendichiamoci sui bulli Non è proprio così Non è così Banale e scontato Niente Questo è quanto 20 luglio Al cinema Non so La versione doppiata Come sarà In spagnolo È molto carino Niente Vendichiamoci sui bulli Lì Come sarà Vendichiamoci sui bulli Vendichiamoci sui bulli E la versione Allora Vendichiamoci sui bulli